Con il laboratorio creativo, maestra, ai nuovi alunni che verranno, cosa spiegheranno i bimbi stamani? Questo sarà per loro un segnalibro in tema natalizio, che ricorda un po' il percorso che abbiamo fatto sui diritti e regaleranno questo segnalibro ai bambini, ai nuovi iscritti, in modo tale che l'anno prossimo potrà essere utilizzato da questi bambini per ricordare questa giornata. Quindi il laboratorio creativo per dare un imprinting ai bambini dell'elementare? Certo, certo. Quindi cosa ha da aggiungere rispetto a quello che ha detto la maestra? No, niente, la collega è stata molto esaustiva. Molto esaustiva, sì.